E' stato spento direttamente dagli operai con l'impiego di un estintore di un tubo dell'acqua il principio d'incendio divampato sul tetto di una delle palazzine di via De Nicola alla Gammarana a Teramo ma uno di loro è rimasto stionato al volto e a un braccio. Le fiamme si sono propagate stamattina poco dopo le 9.30 durante la saldatura su un pezzo di guaina isolante. Sul tetto in quel momento si trovavano quattro operai della ditta che in subappalto per l'impresa Coccia Costruzioni sta eseguendo una ristrutturazione con il super bonus del 110. Gli operai erano impegnati a scaldare la guaina per posizionare l'isolante sul tetto in laterizio del condominio ma il calore degli attrezzi utilizzati ha innescato il rogo. La prontezza di riflessi dell'operaio che saldava e il supporto immediato ottenuto dai colleghi vicini ha evitato che l'incendio si propagasse rapidamente. Con un estintore prima e con l'impiego di un tubo dell'acqua fatto salire dall'ultimo piano sono riusciti a spegnere velocemente le fiamme circoscrivendole ad un'area di circa 10 metri quadrati. Uno degli operai ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto all'altezza della tempia e all'avambraccio sinistro e è stato trasferito in ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale per la bonifica definitiva dell'area. La palazzina di cinque piani in cui si è verificato il principio d'incendio è abitata da 16 famiglie. Grazie a tutti.